Ciao, io sono Angela, una volontaria dell'Associazione ODV, un fido per amico. Sono diventata volontaria insieme a mio marito perché avevamo la passione per questi angeli pelosi e poi soprattutto perché volevamo aiutare i più bisognosi. Insieme ai ragazzi dell'Associazione stiamo creando un nuovo progetto, si chiama Rifugio 2.0, dove in questo progetto, come si vede, vorremmo creare un'oasi di pace per questi piccoli animali, per questi piccoli angeli. Speriamo nelle donazioni soprattutto per creare questa oasi. Ciao dall'Associazione ODV, un fido per amico, Vico del Gargano. Oggi vi presentiamo Pluto. Lui è un segrici italiano di tre anni. Pluto, quando l'abbiamo preso, era terrorizzato, soprattutto dall'uomo, era spaventato. Lui è un cane fiero, che non ama essere recluso. Lui ha solo voglia di cercare una famiglia. Ha la voglia di essere abbracciato, coccolato, amato, sopra il tutto. E ama fare queste lunghe passeggiate. Infatti, quando lo portiamo a spasso, è socievole con tutti. Si lascia accarezzare, abbracciare, ma rimane sempre bello lui, con classe rimane. Stiamo cercando una famiglia per Pluto, di cui questa famiglia abbia ampio spazio verde. Dove poter passeggiare, dove poter correre, il punto è vero. Dobbiamo correre tantissimo. E ha bisogno di essere amato. Lui soffre di lesmania, ma non per questo non è un cane come gli altri. Anzi, stiamo cercando questa famiglia adorabile per Pluto, che lo ami tantissimo, come lui ha bisogno.